Salve a tutti, mi chiamo Marco, appena terminato il corso per tecnico del suono di Francesco Nano. Un ottimo corso a mio avviso, dove i punti di forza sono la capacità dei tutor di spiegare concetti, apparentemente difficili con una semplicità disarmante e di poter contare su un percorso guidato dove vengono analizzati e spiegate la maggior parte delle tematiche riguardanti l'hard disk recording. Durante questo corso si ha la possibilità di apprendere una grande quantità di informazioni e di andare in profondità su tematiche che non sempre sono facilmente disponibili in rete. Chiunque abbia dei soldi è in grado di acquistare ottime apparecchiature, ma la differenza la fa chi le sa usare. Comunque, ecco il mio testato di partecipazione e colgo l'occasione per salutare tutti i tutor presenti nel corso. Grazie e good recording!